La sera del 28 dicembre, dopo essere stato sottoposto a controlli dalla polizia mentre si trovava in largo teatro a bordo di uno scooter con un amico, aveva insultato e minacciato il sindaco di Bitonto, Michele Abaticchio. Nelle scorse ore Michele Arcangelo Santa Maria, 29enne bitontino, sorvegliato speciale dallo scorso giugno con obbligo di dimora nella sua città e stato arrestato per aver ripetutamente violato le prescrizioni a cui era sottoposto. L'uomo era già stato sorpreso in passato alla guida di uno scooter pur non avendo la patente. La sera del 28, dopo aver minacciato il primo cittadino, Reo a suo dire di aver procurato l'intervento della polizia, si sarebbe dileguato nel centro storico su uno scooter, il tutto nonostante i controlli in corso nell'area del cantiere che circonda il teatro. La notte di Capodanno infine durante un ulteriore controllo non sarebbe stato trovato nella sua abitazione come predisposto dall'autorità giudiziaria. Dopo aver accumulato numerose denunce, gli agenti del commissariato di Bitonto su disposizione della magistratura lo hanno pertanto posto agli arresti domiciliari.